Videino nuovo oggi che riguarda un'altra sezione del nostro mixer analogico che può essere live ma anche in studio cioè gli ingressi stereo. So che avete molta fretta quindi non perdiamo tempo perché si avvicina la Befana andiamo sul nostro mixer. Ed eccoci qua di nuovo sul nostro mixer analogico. Oggi andiamo a vedere le entrate stereo quindi stereo 1, stereo 2. Intanto cerchiamo di capire a cosa servono gli ingressi stereo. Andiamoli a vedere nella parte dietro del mixer dove troviamo i connettori. I due stereo return e i due stereo in. Quindi abbiamo il stereo in 1 left e right, lo stereo in 2 left e right. Sul manuale del mixer possiamo trovare tutto lo schema preciso. Andiamo a cercare di capire quando e perché utilizzare questi ingressi. I nostri ingressi stereo che abbiamo visto appunto adesso nel retro della console del mixer sono ingressi ad alta impedenza ottimali per tastiere, drum machine, tape return, se io ci entro anche con la scheda audio. Nel nostro mixer possiamo vedere appunto delimitata tutta la parte dedicata a queste linee, tutta la parte dedicata appunto ai nostri ingressi stereo. Negli ingressi stereo troviamo stereo 1, stereo 2, quindi sono due coppie come abbiamo visto dietro e abbiamo un livello di entrata, questo per uno e questo per l'altro. Non confondetevi qua che è la sezione master, quindi è tutto questo blocchetto qua. Poi ogni mixer, ogni console è fatta a suo modo ma sostanzialmente dovrebbero averli. Abbiamo un equalizzatore naturale che non ci sia un equalizzatore magari completo come sul channel strip perché si presume veniate da magari qualche dispositivo che permette già un certo tipo di equalizzazione o un controllo appunto delle frequenze. Quindi un equalizzatore che mi permette di trattare le alte e le basse appunto. Quindi posso schiarirlo, inscurirlo un pochettino. Qui sotto abbiamo la sezione degli AUX. AUX che mi permette appunto di inviare quello che è uno dei due stereo input in un AUX o 1, 2. Quindi potrò andare a inviare il mio segnale ad un AUX o piuttosto che un altro oppure gli stessi, oppure switchare, quindi andare a spingere il mio bottoncino. Quindi avrò 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. La combinazione me la posso poi fare come voglio. E siccome lo so che voi anche se dite kick, anziché gran cassa, volete le cose spiegate proprio bene bene bene, vi faccio capire un pochino con un esempio. Supponiamo che io entri stereo left e right con la mia drum machine, con la mia batteria elettronica, che io abbia sul palco batterista, chitarrista, cantante e bassista. Faccio il mio livello, quindi entro dentro lo stereo 1 con il output della mia batteria. Supponiamo che io debba fare le spie. Quindi non andiamo nella sezione out, ma fermiamoci agli AUX. Facciamo un po' di schiarita, togliamo un po' di basse perché ci tira così. E abbiamo bisogno di tre spie differenti. Vogliamo tre spie differenti, potremmo farlo anche uguali, potremmo collegarle in serie, come sto facendo io, ma noi vogliamo tre spie differenti. Quindi andremo alla spia 1, 2, 3, avremo tre casse spie, una dedicata a ogni componente del nostro trio. Quindi la bass, la drum machine, il cantante e chitarrista lavorerà così. La drum machine, appunto, il nostro bassista lavorerà così, differenti, queste sono le 1, 2. A questo punto, questo era disinserito, inseriremo 3, 4 e questa diventerà la nostra 3, ok? Quindi questa qui farà 3, anziché 1, 2. Ecco che avremo tre tipi di regolazione diversa, appunto, per ogni spia di ogni musicista, cantante, chitarrista, batterista o bassista, oppure, insomma, ordinati come erano prima, che non me li ricordo più. Ma comunque tre spie diverse. 1, 2, spingendo diventerà 3 e 4. I sens sono pre-fader, quindi ricordatevi che se avete bisogno di particolari necessità per effetti e metterlo in post, avete la possibilità, appunto, di utilizzare dei canali mono, dove avete la possibilità di scegliere. Ed eccoci nella parte dell'output. Questo è il vostro fader d'uscita, il vostro level, quindi ricordate abbiamo un ingresso e un'uscita, questo fa da fader, abbiamo il pre-fadering da fare sul vostro meter, e abbiamo uno stereo assegnato al mixo gruppo 1, 2, un altro stereo assegnato al mixo gruppo 1, gruppo 3 e 4. Quindi se sono premuti tutti e due, spero di non far troppo riflesso ancora, sono tutti e due indirizzati al mix. Se uno è alto, quindi alzato, lasciato su il bottoncino e l'altro anche, questo andrà nel gruppo 1, 2, questo andrà nel gruppo 3 e 4. Così andranno al mix tutti e due. Una volta che avrete deciso che magari una traccia stereo va in uno dei due gruppi e l'altra va nel secondo dei gruppi, potrete fare appunto questi volumi in maniera separata e lasciare inalterato tutto il mix che state facendo suonare dentro alla vostra console. Qui, lo ripeto ancora una volta, potrete andare a decidere se il vostro gruppo, quindi è un sub-routing che andate a fare, qui potrete andare a decidere ancora una volta quanto e se arriverà alto al vostro mix oppure no, il segnale che viene dal gruppo. Perché, lo ripeto ancora una volta, perché se volete far uscire dal vostro gruppo e basta per andare in un processore, per andare in un compressore, per poi rientrare in un'altra scheda, in una console, per rientrare nel mixer, perché potete fare mille cose con una console analogica. Ricordate che qui i collegamenti vengono fatti per davvero, quindi la logica è un pochino diversa e avete questi switchettini, questi bottoncini. To mix va al mix, quindi verrà sommato e poi qui potrete insertare un processore, potete fare tante cose, verrà sommato al mix in maniera così poco oppure molto, 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 molto invasiva. Così invece uscirà solamente dall'out del gruppo. Quindi, per sentire quello che state facendo con il gruppo, dovrete andare fuori dai jack del group 1-2 out e decidere dove andare. Appunto, ci deve essere una ragione per fare questo tipo di collegamenti. Ed ecco quindi, soprattutto se si tratta di un processamento, per esempio come faccio io che il gruppo 1-2 lo metto dentro un compressore e quindi ecco l'importanza del poter assegnare alla traccia stereo e ripeto, funziona come una qualsiasi traccia mono, a parte il fatto che questa è già stereo, assegnare un'uscita piuttosto che un'altra. Quindi uno dice, ma perché lo devo mandare nel gruppo 1-2 piuttosto che nel mix e lo posso già fare direttamente da qua perché poi con questo fader posso decidere quanto andare a sommare in un'altra uscita master che non è la principale e a sua volta decidere quanto miscelare, quanto andare a mixare anche queste seconde uscite che andranno o no a sommarsi al nostro master rispetto a tutti gli altri canali che possono anche loro a loro volta essere stati assegnati qua. Madonna santa! Il video è finito ragazzi, abbiamo sviscerato un'altra parte della nostra console analogica. Io vi ricordo che se avete bisogno per qualsiasi cosa potete scrivermi sempre alla mail danieleursini.it quindi state facendo il setup non sapete da che parte è girata l'apparecchiatura che avete insomma contattatemi io sarò qua per rispondervi ed aiutarvi e l'altra cosa è leggete i manuali di istruzione ragazzi leggeteli perché lo so che siete pigri ma è bello imparate un sacco di cose nuove io ero uno di quelli che non voleva mettere mano aprire un manuale poi ho scoperto la bellezza di queste cose cercate di apprezzare il fatto che ci possa capire giorno per giorno una piccola cosa su quello che avete sotto le mani e poi una cosa ancora più importante in tutto il marasma di informazioni che ci sono adesso non accumuliamo troppa roba cerchiamo cercate questo lo dico perché non capivate tanti in tanti di voi non capivano l'ingresso microfonico la differenza tra un line e un microfonico lo dico cercate di capire perché dovete fare cosa cioè preoccupatevi di capire che cosa volete fare quindi devo collegare questo perché ho la band live che suona e ha bisogno di e poi i problemi nascono da soli e li andate a risolvere nello specifico i problemi che si creano ho visto persone voler sapere capire cose che a loro non interessavano per niente quindi a loro non sarebbe stato utile minimamente in quel momento sapere quello che mi stavano chiedendo capite cosa dovete fare avete qualche tipo di problematica risolvetela e andate dritti al punto quindi alla Befana io vi saluto non so perché oggi ce l'ho con la Befana ciao ragazzi del Clip Recording Studio un abbraccio a tutti e presto un nuovo video ciao ciao